Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, quest'oggi parliamo del mega aggiornamento patch 1.6 di Automobilista 2 perché arriva finalmente la seconda parte diciamo che spiega lo sviluppo di questa patch che è imminente ragazzi ora siccome era come la prima mi sono permesso di raggrupparlo in 6 punti fondamentali al fine di non tediarvi troppo con troppi dettagli e racchiudervi appunto questa parte in modo tale da capire rapidamente su che cosa hanno lavorato e quali sono i miglioramenti e iniziamo subito con la prima novità è il supporto per le griglie a 48 auto fatto che abbiate però una macchina con 12 GB di memoria ma chi non avesse almeno 12 GB di RAM correrà sempre con un massimo di 32 macchine che non mi pare poco non tutti i circuiti sono compatibili per avere 48 piazzone 48 box quindi come succede su era factor 2 su asset for sound questi box saranno condivisi ma per noi non è un problema ragazzi secondo punto sviluppo multiplayer continua la collaborazione con lfm con just race e racecraft in cui sono in fase beta stanno testando e programmando delle gare e perché decidono i razza di appoggiarsi a questo tipo di collaborazione perché dicono loro lo sanno fare è il loro mestiere noi non siamo così bravi allora per dare un supporto multiplayer degno di questo nome appoggiamoci a chi lo sa fare oltretutto per migliorare le prestazioni a livello del multiplayer alleggeriscono il netcode riducendo il carico dei trasferimenti del ben 75% dei dati che sono trasmessi tra i server in modo tale da alleggerire tutto questo carico quindi evitare lag caricamenti lenti errori eccetera quindi ottimo lavoro da questo punto di vista nuove funzionalità sono state inserite per la gestione diciamo dei server privati quindi condividere configurazioni imitare i partecipanti sessioni qualifiche eccetera insomma la configurazione in genere terzo punto grafica sono state riviste l'illuminazione ambientale riviste i materiali dei veicoli e aggiornamento ancora degli shader ragazzi sono stati introdotti nuovi dettagli come i fuochi d'artificio in eventi speciali tipo finisce la gara papam sparano per festeggiarvi ci saranno più dettagli visivi dinamici come scarichi incandescenti figata e i pneumatici bagnati si vedrà proprio l'effetto bagnato quarto punto sviluppo della fisica revisione della termodinamica dei pneumatici e dei freni e qui si parla di una vera rivoluzione Reiza dice che se avete provato la 1.5 e non vi ha convinto vi chiede di provare la 1.6 perché si parla di rivoluzione totale dicono di essere arrivati all'apice di quello che è lo sviluppo diciamo della fisica per quanto riguarda il titolo dicono che ci sono margini di scoprire altre possibilità di sviluppo ma che veramente sono arrivati a un livello veramente molto alto speriamo bene ragazzi hanno rivisto anche tutti i modelli delle auto per garantire uno standard qualitativo uniforme quindi hanno colmato quei gap di differenza di qualità delle auto ragazzi questo è un bellissimo lavoro fantastico quinto punto l'intelligenza artificiale adesso con dei sviluppi significativi del comportamento delle IA troveremo una IA più combattiva che chiude gli spazi andrà a cercare gli interni farà attenzione alle strategie e sarà anche cauda quando avrà la bandiera blu ragazzi quindi molto molto fico sesto punto meteo e sviluppi live track qui stiamo entrando veramente e qui devo essere conciso perché ne parlano per 6 km però ci sarà un nuovo sistema di modellazione dell'umidità per ambienti più realistici e per formazioni di vortici di condensa in cui quando passeranno le ruote scoperte si potranno vedere degli effetti vortici come nella realtà aggiustamento della dinamica di accumulo e dissipazione dell'acqua sulla pista che influenzano la formazione di pozzanghere e aderenza in condizioni di bagnato ragazzi e se vi dicessi che non è finita qua ho raggruppato tutto così ho veramente sintetizzato perché avrei potuto ragazzi tediarvi con spiegazioni di ogni singolo punto ma mi pare che sia abbastanza chiaro una cosa che è scioccante è che dicono ragazzi ci vediamo tra poco perché vi parleremo anche della parte 3 dello sviluppo della patch 1.6 ragazzi e soprattutto c'è una parte molto importante per quanto riguarda l'audio quindi vi chiedo rimanete sintonizzati perché secondo me qui c'è veramente una rivoluzione per quanto riguarda questo automobilista 2 che cavolo ogni volta una patch all'anno ci fanno salire l'hype a 3000 quindi se questo video vi è piaciuto pollice in su lasciatemi un commento ditemi che cosa ne pensate iscrivetevi al canale da Fabrice è tutto ci vediamo prestissimo ciao ciao